Abbiamo anche lei a Bergamo, come mai? Per rivendicare l'orgoglio di essere una Lega per bene, che da tanti anni, da decenni, lotta per la propria gente e perché vogliamo che se qualcuno ha sbagliato paghi e perché vogliamo andare nelle nostre città a testa alta come abbiamo sempre fatto.